Non c'è pace per i trasporti aerei sardi. Sulla continuità territoriale dei collegamenti dalla Sardegna verso la penisola, infatti, incombe Bruxelles. La Commissione Europea ha comunicato alcuni rilievi che riguardano sia il bando per la CT1 non assegnato per Cagliari e sia quelli assegnati per Olbia Alghero, ma la Regione si dichiara pronta a fornire tutti gli approfondimenti richiesti per difendere il diritto dei sardi alla mobilità. Si tratta della comunicazione formale di rilievi sui quali abbiamo tenuto lunghe interlocuzioni sostenendo la nostra posizione, dichiara l'assessore trasporti Careddu. Non siamo disposti a subire l'ennesimo tentativo di subordinare le richieste essenziali della collettività a un regolamento comunitario generale che riconosce le problematiche legate all'insularità solo parzialmente, limitando a consentire l'attivazione di servizi minimi. Intanto il ministro dei Trasporti Graziano del Rio salva i collegamenti aerei da Cagliari per Roma e Milano, firmando il decreto di proroga al servizio fornito al Vettoria l'Italia. Ma la Commissione UE, in attesa del nuovo bando per lo scalo del capoluogo, contesta formalmente alla Regione i requisiti previsti dalle nuove gare per la continuità territoriale, due già assegnate, Alghero la Blue Air e Olbia Meridiana. I punti toccati dalla Commissione Europea riguardano le frequenze, la capacità, le tariffe e una serie di obblighi addizionali contenuti nei nuovi bandi che per la Regione sono invece ritenuti fondamentali al fine di garantire un diritto sancito dalla Carta Costituzionale. La contestazione che arriva da Bruxelles potrebbe però trasformarsi in una procedura di infrazione per aiuti di Stato, con l'obbligo di restituzione delle risorse pubbliche erogate alle compagnie aeree dalla Regione. Siamo tutt'altro che rassegnati, sottolinea l'assessore dei trasporti, e continueremo convintamente a far valere le nostre ragioni a Bruxelles, tenendo in considerazione il fattore tempo. Abbiamo un confronto aperto con le compagnie aeree per individuare con loro la soluzione più appropriata. È iniziata la seconda edizione di Promo Autunno, l'evento che racchiude in lo spazio della Promocamera a Predaniedda espositori da tutta la Sardegna. Un appuntamento che dà lustro a tante eccellenze sarde e che potrà essere visitato gratuitamente dalle 10 fino alle 22. La fiera sarà aperta fino a domenica 15 ottobre. Diverse le categorie merceologiche e la possibilità di conoscere più da vicino i meccanismi anche delle amministrazioni locali, vedi comuni di Sassari e regionali. Curiosità ed interesse a disposizione di tutti, perché la Promo Autunno non è solo una fiera, ma è tanto di più al servizio del territorio. Presentato tra gli eventi all'interno di Promo Autunno, la fiera del Nord Sardegna è inaugurata questa mattina nei locali della Promocamera, il nuovo portale sardegnaimpresa.eu. L'assessore regionale all'industria, Maria Grazia Piras, ha illustrato il nuovo progetto online dedicato ai fondi europei per le imprese, un modo per informare in modo pratico e puntuale gli imprenditori sulle numerose possibilità di accesso ai fondi per accrescere il proprio business o avviare una nuova attività. Non è un restyle solamente, certamente cambia anche l'immagine, però quello che abbiamo voluto fare è rendere il portale rivolto agli imprenditori e all'impresa di più semplice consultazione. Aperto ai social si può consultare direttamente sul cellulare, sull'iPad, su Facebook, su Twitter. Abbiamo sempre pensato che le risorse che stiamo mettendo a disposizione molto spesso non sono conosciute dagli imprenditori. Questo è un modo per farle conoscere più direttamente ed essere pronti ad accedere ai bandi e ai servizi che la regione continuamente pubblica sui nostri siti. Da qualche giorno è online la nuova versione del portale, ora anche multilingue, per consentire una piena fruizione anche agli investitori stranieri. Il sito è più snello, più accessibile, più smart ed è costruito per essere utilizzato anche su smartphone e tablet. Non è solo forma ma anche sostanza. Il canale tematico che si rivolge a chi fa o vuol fare impresa nell'isola ha una nuova veste grafica e nuovi contenuti. È dunque più semplice acquisire informazioni su come creare e fare sviluppo d'impresa e su tutti gli altri aspetti utili per operare in Sardegna. Sono stati pubblicati dall'Università di Sassari i bandi per l'assegnazione di borse di mobilità internazionale a fini di studio, nell'ambito del programma Erasmus Plus per il secondo semestre dell'anno accademico 2017-2018. Possono partecipare gli iscritti ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, master, dottorato e scuole di specializzazione dei dipartimenti di Agraria, Architettura, Chimica e Farmacia, Giurisprudenza, Scienze Biomediche, Scienze della Natura e del Territorio, Scienze Politiche e Ingegneria dell'Informazione, Scienze Umanistiche e Sociali, Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione. La selezione è aperta anche agli iscritti al corso di laurea interdipartimentale in Sicurezza e Cooperazione Internazionale. Le candidature dovranno essere compilate online entro le 12.30 di mercoledì prossimo e successivamente consegnate in formato cartaceo all'Ufficio Relazione Internazionale di Via Macao entro le 12.30 del 19 ottobre. Al link www.unis.it slash internazionale slash bandi sono consultabili i bandi per l'assegnazione dei finanziamenti destinati allo svolgimento di un periodo di studio all'estero in una delle numerose università europee con le quali l'Ateneo sassarese ha stipulato accordi di interscambio. Le serie disponibili, che variano a seconda del Dipartimento, sono pubblicate come documento allegato a ogni singolo bando. Sul sito web dell'Università di Sassari i candidati troveranno anche le indicazioni da seguire per accedere ai test obbligatori di valutazione delle competenze linguistiche. Si potrà prenotare la data e l'orario del test da svolgere nel Centro Linguistico di Ateneo. Sarà proiettato il prossimo 6 novembre a Sassari, a Palazzo di Città, il cortometraggio realizzato dai giovani che svolgono servizio civile presso l'Informa Giovani di Sassari e che hanno partecipato al concorso sulle tematiche europee Altiero Spinelli Prize. Il filmato realizzato dopo la Brexit, ma prima degli scenari secessionisti della Catalogna, è ambientato nel 2037 e racconta di un'Europa che non esiste più. Alla sua prima regia, Mattia Uldank. Piuttosto che ipotizzare uno spiegare quelli che fossero i valori dell'Unione Europea, abbiamo preferito ipotizzare uno scenario in cui questi valori non fossero più presenti, cioè un'Europa disunita, un cortometraggio ambientato nel 2037. Noi ipotizziamo che nel 2017 sia caduta l'Unione Europea, siano tornati nazionalismi e che insomma tutto sia regredito, quindi un futuro che in realtà non ha portato al progresso ma a un regresso. Abbiamo visto sostanzialmente quelle che erano le situazioni all'interno dello scenario europeo e in base a quello abbiamo creato una nostra ipotesi che in realtà è nata soltanto come una forma di provocazione. Noi volevamo provocare dei pensieri nello spettatore, cioè non volevamo dare una visione né pro né contro un concetto, volevamo ipotizzare uno scenario in modo tale da portare lo stesso spettatore a riflettere su quelle che sono le possibilità che potrebbero nascere nel corso dei prossimi anni. La sassa di calcio latte dolce prepara la trasferta ai Tortoli dove domani con calcio inizio alle ore 15 proverà a ripartire e soprattutto a metter punti in una classifica devicitaria che vede i biancocelesti ultimi in graduatoria. C'è da lavorare e tanto per ritrovare fiducia nei mezzi propri senza pensare a ciò che è stato. Visi tirati e tanta fatica a ciò che si vede nelle sedute di allenamento, agli ordini del rientrante mister Pava. È un momento delicato sicuramente ma guardare l'organico e la squadra e mettendo sul piatto la voglia rivalsa ai giocatori non ci meraviglierebbe un cambio di rotta deciso. In questo anticipo pensiamo vogliano giocare tutti anche per mettere a tacere voci e riguadagnare la stima della società e dei tifosi. È il caso di aspettare l'evolvere del momento e ovattare l'ambiente che ha solo bisogno di fare quadrato con la squadra per rimettere a posto le cose in un progetto che ha valenza pluriennale e che alla fine siamo certi della grandi soddisfazioni. A fare il verso ad un famoso film si legge su una pagina social del sodalizio sassarese che non può piovere per sempre. Concordiamo e adesso che si parli e soprattutto si giochi su un campo. A fare il verso ad un nuovo film si legge su un campo.